Ciao, sei qui per il piercing giusto? Sì esatto, sì allora guarda, compilami questa carta, ok, e dopo cominciamo Ok lo compilo ma cominciamo a fare cosa? Beh, questo è l'appuntamento per fare il piercing No no no, aspetta, ma questa non è la seduta consultiva o tipo dove vedo solo dove metterlo e basta Cioè non avrebbe tanto senso darti un appuntamento per farti vedere il piercing E dopo darti un altro appuntamento per fare il piercing Oh santa pepina Dai 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 andiamo, non fare il frittella Oh cavolo